Una buona domenica a tutti da Gabriella Caramore, Pasqua quest'anno è passata molto velocemente essendo venuta così presto ed è passata sulla striscia di sangue lasciata da un attentatore suicida a Lahore in Pakistan mentre non si era ancora spento l'eco e non può spegnersi. Ovviamente dei morti di Bruxelles, poi si sono trovate le fosse comuni a Palmira, anche lì donne, bambini come a Lahore che è stato un parco giochi a essere colpito pieno di bambini, 72 morti tutti in festa per le celebrazioni pasquali ancora una volta l'ombra, dico proprio l'ombra della guerra religiosa ma penso anche che sia chiaro a tutti che colpire obiettivi religiosi fa parte di una strategia dell'odio che poco ha a che fare con le religioni stesse, ho detto chiaro a tutti ma naturalmente mica tanto anche se nelle religioni trova fertili focolai come sempre. Quindi in un certo senso forse è quasi improprio parlare di martiri cristiani perché sono vittime di una violenza cieca, questo sì, vittime di chi non sa andare incontro allo sguardo degli altri di chi ha gli occhi che non vedono, il cuore che non sente e non nutre rispetto, non nutre attenzione. Ma forse ciascuno di noi dovrebbe cominciare a chiedersi di quanto rispetto e di quanta attenzione siamo capaci o siamo stati capaci culturalmente, socialmente, ma questo naturalmente è un discorso lungo, complicato sul quale torniamo tante volte, è una battaglia comune quella che dovremmo intraprendere e proprio per questo è necessario ripensare con ampiezza, con intelligenza la nostra storia e anche la storia del cristianesimo. Una storia lunga più di due millenni, trastagliata, composita, anche questa intrisa di sangue come abbiamo ricordato tante volte così piena di componenti e di contraddizioni che in effetti si fatica a tratteggiarne un profilo. Ci hanno provato un'equip della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma con altri appartenenti ad altri studiosi di diverse discipline, di altre università, anche alcuni stranieri sfidando non solo la mole immensa del lavoro ma anche la difficoltà a circoscrivere una storia di qualcosa che storia non è, un fatto religioso. Un fatto religioso è storia? Fino a che punto? Fino a che punto si può farne storia? Insomma, di tutto questo parliamo oggi in primo luogo con Emanuela Prinzivalli che è storica del cristianesimo e storica delle chiese all'Università La Sapienza di Roma ed è anche, buongiorno Emanuela Prinzivalli, è anche direttrice del Dipartimento di Storia, Cultura e Religioni della Sapienza ed è importante che queste religioni comincino a entrare, a uscire dalle facoltà teologiche confessionali e a entrare invece nell'Università di Stato. E poi ne parliamo anche con Vincenzo Lavegna che insegna storia moderna all'Università di Macerata. Buongiorno Lavegna. Buongiorno. Allora, noi abbiamo qui davanti a noi quattro volumoni che possono scoraggiare visti così tutti insieme però devo dire che avete fatto un grande lavoro per suddividere questa storia del cristianesimo che è uscita da Carocci non solo periodicamente, adesso li vedremo un po' uno per uno ma anche inserendo tante cose e letteratura, e arte, cultura, musica ma soprattutto cercando di vedere un po' come si può trovare un filo insomma in questa complessità. Allora, per prima cosa io chiederei a lei Prinzivalli che è la curatrice di tutta l'opera oltre che del primo volume che riguarda l'età antica e va dai secoli primo al settimo. Allora, intanto diciamo qual è il minimo come un denominatore per dire storia del cristianesimo? Cosa ci vuole di minimo? Di minimo ci vuole la figura di Gesù di Nazareth che è nato, vissuto e ha avuto le categorie mentali e di esperienza del giudaismo però da lui, attraverso un processo complesso travagliato perché è difficile che da una religione venga fuori un'altra religione come può essere cioè che dall'ebraismo nasca quello che è stato chiamato cristianesimo in epoca molto tarda piuttosto tarda piuttosto la prima volta che il termine cristianismos figura figura in un testo degli inizi del secondo secolo ecco, quindi tanto per chiarire né Gesù ha inteso fondare il cristianesimo Assolutamente no Gesù intendeva rivitalizzare dare un orientamento a quelli che erano i suoi confratelli ebrei però ecco da questa figura evidentemente una figura fascinosa una figura carismatica attraverso vie complesse è venuto fuori un sistema religioso differente che noi chiamiamo cristianesimo ecco lei ha detto allora una delle due componenti per poter parlare di cristianesimo è che ci sia la figura di Gesù detto il Cristo come punto di riferimento anche se poi è venuto una specie di nome e cognome Gesù Cristo Gesù il Cristo l'unto dal Signore ecco e anche lì va detto forse arriveremo a dirlo non lo so che sono tante fin dall'inizio fin dai testi fondativi le interpretazioni che si possono dare della parola e della vita di Gesù naturalmente ecco quindi da un lato la risurrezione la redenzione eccetera dall'altro invece l'etica il comportarsi bene c'è tutto questo c'è tutto e tutto questo c'è in quel periodo straordinario delle origini dove tutto era possibile dove la figura di Gesù di Nazareth per continuare a vivere nei suoi seguaci ha avuto da subito molteplici interpretazioni all'interno del giudaismo perché già il giudaismo era un fenomeno complesso in quell'epoca quindi accanto a un Gesù risorto c'era per esempio l'idea di un Gesù ultimo profeta e non è detto che coincidessero queste due interpretazioni erano modi di continuare a far vivere il suo messaggio che man mano poi si è trasformato nella stessa esaltazione e venerazione e adorazione della sua figura quindi di Gesù come il Cristo non a caso cristianesimo prende il nome da Cristos cioè dal titolo che gli viene attribuito quindi qualcosa di molto complesso ed è difficile perimetrarlo ecco è difficile perimetrarlo voi ce l'avete provato devo dire in maniera egregia mi sembra anche perché poi questi volumi si possono leggere anche per singoli capitoli a seconda dell'interesse che ha ciascuno ecco l'altro elemento che fa della storia del cristianesimo una storia del cristianesimo che cos'è è la cosa più difficile è la cosa più difficile io ho cercato di individuarla nella presentazione che poi è stata premessa a ciascuno dei volumi ed è il fatto che comunque si faccia riferimento a Gesù nella molteplicità delle istituzioni delle dottrine degli ambienti dei testi delle interpretazioni delle interpretazioni che comunque si faccia riferimento a Gesù come elemento primario di salvezza perché c'è un Gesù anche persistente nell'ebraismo adesso recuperato nell'ebraismo stesso e c'è un Gesù nell'Islam ma non è il riferimento ultimo per la salvezza mi rendo conto che è molto difficile cioè è molto larga come perimetrazione però secondo me ecco il fatto che sia l'elemento primario per determinare la salvezza può essere un minimo perimetro dopodiché anche sulla parola salvezza ci sono tante interpretazioni come intorno a Gesù perché salvezza può essere appunto il buon comportamento e dunque sei giustificato oppure oppure la resurrezione oppure l'aldilà naturalmente che cosa come l'uomo uno dei problemi che si sono sempre posti come l'uomo può contribuire alla salvezza oppure contribuisce l'uomo a una salvezza data da Gesù il Cristo conta le buone azioni conta la fede oppure si è salvati perché si ha fede cosa oggi molto problematica da sostenere perché abbiamo di fronte le altre fedi le altre credi le altre religioni ma non solo che cosa viene salvato dell'essere umano anche questo fu un problema che si pose perché ricordiamoci che il cristianesimo si è diffuso in un bacino greco-romano dove semmai si pensava a una salvezza per l'anima quindi c'è tutto un problema di inculturazione ecco oggi abbiamo anche lì una rilettura della parola anima che appunto viene dal mondo greco eccetera eccetera ma dunque prima di andare avanti Vincenzo Lavenia ecco lei è docente di storia moderna e ha curato il terzo volume dedicato appunto all'età moderna che va dai secoli sedicesimo al diciottesimo però diciamo più in generale per l'età moderna è anche contemporanea che senso ha oggi a che cosa può servire cioè proprio a noi qui in questo tempo conoscere una storia del cristianesimo ma intanto in qualche modo la modernità si è costruita anche a partire dal punto di distanza che ha deciso di determinare rispetto al cristianesimo quanto ci si è richiamata quanto ci si è discostata la modernità la intende l'epoca moderna no intendo intendo la nozione di modernità ovviamente l'epoca moderna poi parte da una grande frattura che è interna alla storia del cristianesimo senza la quale non potremmo comprendere come l'Europa ci arriviamo però mi interessava capire cioè oggi a che ci serve leggere una storia del cristianesimo a misurare per esempio se è vero o falso quanto è stato scritto all'inizio alla fine dell'ottocento all'inizio del novecento sulle categorie di secolarizzazione una discussione in atto da anni dagli anni 2000 direi molto forte se è vero o no che il paradigma della secolarizzazione ha trionfato molti storici molti sociologi ne dubitano ritornare alla storia del cristianesimo significa porsi davanti al tema del rapporto tra religione e comunità umane ma anche tra religione e politica che mi sembra un nodo tutt'altro che è secondario soprattutto a partire dal ventunesimo secolo c'è qualcosa che sembrava ecclissato almeno nel mondo occidentale anche la stessa categoria di occidente in qualche modo rimanda per esempio alla come dire alla tradizione di una chiesa perché esistono anche le istituzioni questi questi volumi discutono di salvezza e del richiamo a un'idea di salvezza ma discutono anche delle istituzioni che queste idee di salvezza hanno edificato in un arco lunghissimo di storia hanno edificato oppure o hanno ereditato o hanno modificato o hanno modificato oppure le istituzioni che hanno inglobato dentro di sé con cui hanno avuto motivo di confliggere diciamo così è una storia ovviamente conflittuale quella che abbiamo tentato non pacificata non pacificata non monolitica quella che abbiamo tentato di mettere in campo proviamo a vedere che cosa si può conoscere attraverso una storia del cristianesimo leggerla oggi ci fa vedere appunto mettendo in luce questa complessità ecco perché poi oltre alla storia cristiana c'è appunto oltre alla storia delle origini c'è la storia oltre a quest'idea della salvezza in Cristo c'è la storia che si è chiamata cristiana quindi bisogna capire in quante forme si è moltiplicata costruita e questo ci riporta alla molteplicità nella quale viviamo oggi naturalmente avete spento i cellulari si benissimo naturalmente ci riporta a questa complessità e direi che la complessità e la pluralità è iscritta sempre comunque nel cristianesimo prendiamo per esempio la cosa più banale il secondo secolo dopo Cristo è il secolo della formazione dell'identità cristiana che si forma a partire anche assumendo una eredità giudaica che è un'eredità plurale nelle stesse scritture noi ci scordiamo sempre che Bibbia viene da ta Biblia i libri una pluralità una pluralità che in qualche modo è stata resa compatibile dalla canonizzazione esattamente come nel Nuovo Testamento è plurale reso compatibile ma presenta quindi degli accenti diversi e in ogni momento il cristianesimo ha dovuto fare i conti con questa pluralità che è una pluralità istituzionale che è una pluralità sociale che è una pluralità individuale cosa c'è di comune noi diremmo che le posso dire fra la visione del cristianesimo della chiesa che ha un Cirillo di Alessandria un uomo che al di là del fatto che è considerato un padre della chiesa è stato un violento e viceversa alcuni dei monaci non quelli ai suoi ordini ma che predicavano la tranquillità assoluta che cosa c'è di comune fra un Francesco di Assisi e certi pontefici e Bonifacio VIII e per esempio Bonifacio VIII e Bonifacio VIII eppure le parole di Bonifacio VIII erano parole tratte dai Vangeli molto spesso quindi c'è il grosso problema dell'interpretazione ecco quindi forse la cosa più importante oggi è proprio come dire ridimensionare una certa univocità che ancora domina quando si parla di cristianesimo questo vale soprattutto per la storia italiana dove in qualche modo la pluralità di denominazioni non è esistita ed è un fenomeno con cui abbiamo a che fare negli ultimi anni e la sfida di questa storia del cristianesimo è stata anche fornire al lettore in lingua italiana perché ovviamente si rivolge prevalente esistono molte storie del cristianesimo questa si rivolge al lettore italiano ed è una storia che tenta di mettere in campo i rapporti con l'ebraismo con l'islam e con il resto del mondo in un'epoca di migrazioni proprio perché non possiamo più immaginare una storia del cristianesimo che coincida con la storia della chiesa latina della chiesa cattolica o comunque con una unica denominazione o quasi unica come è stata nella storia d'Italia dove le minoranze insomma a parte la minoranza valdese diciamo in qualche modo non c'è stata neanche un'altra idea di cristianesimo di quella ebraica anche certamente ovviamente al di fuori diciamo del ceppo cristiano ovviamente l'ebraismo e adesso l'islam moltissimo e le denominazioni che chiamiamo evangeliche che sono un'altra cosa a sé rispetto al tronco storico del protestantesimo dunque allora cominciamo un po' facendo un po' di ordine il primo volume allora dai secoli del secolo primo convenzionalmente primo al settimo che cosa accade in sette secoli di storia naturalmente non vogliamo che lei non presumiamo che lei ci lo possa raccontare però due tre cose fondamentali innanzitutto il termine finale il settimo secolo perché perché nel settimo secolo si affaccia l'islam una religione anch'essa monoteista anch'essa proselitista come era stato fortemente proselitismo proselitistico il movimento dei seguaci di Gesù già all'interno del giudaismo dell'epoca quindi ecco questa che non è diciamo la segmentazione più tradizionale ecco perché molto spesso ci si ferma per la storia antica del cristianesimo al quinto secolo poi ecco anche come dire nella nella distribuzione dei capitoli nelle tre grandi sezioni che segnano questo volume ho voluto dare l'idea appunto di questa di questa complessità ecco quindi c'è come nasce perché qui c'è la prima la prima sezione come nasce il cristianesimo poi come diventa istituzione come diventa istituzione come entra nella società come entra nella società infatti e questa è la parte seconda cristianesimo società istituzioni e si prolunga fino per l'occidente sottolineavo il rumore delle pagine andiamo più sottilmente e poi il cristianesimo in occidente quindi come si struttura in occidente e in oriente una delle cose che tengo a dire è che questi quattro volumi riequilibrano molto anche se non totalmente quella che è una deformazione della storia del cristianesimo e prima ancora della storia della chiesa così come è stata vissuta e argomentata dalla storiografia moderna che aveva un occhio ovviamente troppo centrato sull'occidente dimenticandosi che il cristianesimo è un fenomeno che nasce appunto in oriente e che in oriente si nasce in medio oriente quello che chiamiamo così medio oriente e poi e poi e poi da subito va verso l'oriente fino verso la Cina no? ecco e quindi questi quattro volumi riequilibrano parlando molto molto dell'oriente quindi diciamo che dopo il capitolo che riguarda il cristianesimo in occidente in questo primo volume non a caso c'è l'utopia giustianea e gli sviluppi fino al settimo secolo no? quindi si vuole proprio chiudere e poi c'è una terza parte che io considero molto importante che come dire specifica per esempio la liturgia ecco qualcosa di cui molto spesso ci dimentichiamo e sviluppa e sviluppa quello che comincia ad essere una cultura popolare i culti l'idea di santità i luoghi di devozione quindi i pellegrinaggi eccetera eccetera tutte queste cose che sembrano lontanissime la conquista dello spazio lo spazio cristiano uno spazio fisico fisico la conquista quindi che cosa succede in questi primi sette secoli intanto lei dice la nascita di un sistema religioso indipendente e poi coinvolgimento con da una distinzione e da un rapporto come dire anche conflittuale in molti periodi con l'impero romano e anche al di fuori dell'impero romano ma con l'impero romano poi si giunge da Costantino in poi a non solo una conciliazione ma un'assunzione un rovesciamento da chiesa marginata diventa chiesa imperiale e dominante e questo il 380 è una data da ricordare perché non fu Costantino Costantino inizia ma è Teodosio I il Grande che rende il cristianesimo nella sua accezione cattolica attenzione perché universale universale e contraria all'eresie perché poi c'è questa dialettica importantissima in tutta la storia del cristianesimo fra ortodossia ed eressia e quindi dicevo nella sua accezione cattolica la rende religione di stato ecco e questo Vincenzo Lavegna lo chiedo da osservatore non soltanto studioso dell'età moderna ma anche dell'età contemporanea questa sorta di shock il cristianesimo se lo porta appresso anche oggi quest'idea appunto imperiale universale è un'universalità però oggi che non è più legata nella storia della mondializzazione del cristianesimo e quindi della rottura di quel legame fortissimo che è stato il rapporto con l'Europa e con il bacino mediterraneo fino al 400 è una storia che inizia appunto dal momento in cui alcune potenze all'inizio quelle cattoliche ma poi anche quelle protestanti muovono nel resto del mondo e la diffusione in qualche modo del messaggio cristiano fuori dal suo bacino storico è stata legata con tratti apocalittici e con una forte idea di missione comunque all'esperienza coloniale a un'esperienza di aggressione e di rapporto con il potere politico credo che questo negli ultimi anni si sia rotto come si è rotto o perlomeno si sta allentando ed è prossimo probabilmente a finire il rapporto diretto del cristianesimo con l'Europa e nel caso della Chiesa Cattolica anche con la storia italiana e con la storia della curia pontificia si è rotto però poi nelle parole diciamo dell'ufficialità sembra ancora come dire portarsi dietro questa eredità senza dubbio di pensiero unico senza dubbio di imperialità e anche di europeità e anche di occidentalità ricordo un dialogo piuttosto paradossale alcuni anni fa tra Ratzinger e Marcello Pera discussero diciamo se fosse ancora vivo il binomio occidente o Europa e cristianesimo oggi credo non solo per il rapporto per il modo con cui si sta mescolando anche l'esperienza del cristianesimo con cui si stanno rovesciando i rapporti di forza in aree anche insospettabili pensiamo agli Stati Uniti d'America un continente wasp un continente nato come dire da una forte carica puritana e che oggi si ritrova con una con una forte presenza dei cattolici che spesso sconvolge diciamo così quello che è il nucleo originario delle denominazioni protestanti che hanno dato vita come dire anche all'idea stessa di una missione americana in chiave repubblicana senza contare che cose oggi il cristianesimo in Africa e in Asia ovviamente io penso che il rapporto questa monoliticità si è rotta a partire dal 400 e che oggi penso sia destinata e io lo vedo come un fatto positivo a tramontare definitivamente ecco a tramontare definitivamente anche se non tutti sembrano accorgersene ovviamente insomma ma si continua a parlare un linguaggio egemonico mentre intorno il mondo crolla si rovescia che dice principali vedo che scuote la testa no no è un ma io considero in realtà tutto il processo se lo guardiamo dal punto di vista anche interno a una storia del cristianesimo fatta dai cristiani io considero tutto il passaggio della modernità della secolarizzazione fino all'età contemporanea come una progressiva purificazione nel senso che forse adesso siamo nelle condizioni e qualche come dire germoglio di speranza ci sta diciamo per per recuperare quella che era la valenza evangelica una valenza che in realtà molto spesso qui non c'è bisogno di rifarsi alla teologia tedesca liberale ma insomma come dire nei fatti e anche nello studio delle dottrine cristiane una valenza evangelica che è stata sommersa probabilmente proprio la emarginazione che in alcuni casi cristiani hanno e d'altra parte invece c'è la sovraesposizione a volte che un apparato istituzionale che sia cattolico o anche di altre confessioni da come dire ma la presa di coscienza ecco di questa divaricazione fra i percorsi evangelici e gli apparati forse può essere una una purificazione che ci fa capire meglio certi fermenti evangelici questo non c'è dubbio cioè può essere una grande opportunità opportunità questo ridimensionamento diciamo della forza della potenza dell'universalità e possono essere raccolti piccoli segni piccoli segni il resto Gesù di Nazareth era un contestatore delle strutture istituzionali religiose del suo tempo ricordiamo c'è un nodo della ripresa di quella che è la carica più profonda del cristianesimo che è la sua carica profetica cioè il parlare il parlare anche contro il potere questa è una cosa che in qualche modo il ridimensionamento che non è diciamo un fenomeno che riguardi tutti se pensiamo al mondo ortodosso è ancora il rapporto fortissimo ma anche diciamo la storia italiana recente senza bisogno di andare troppo lontano ma anche come dire anche negli Stati Uniti si potrebbe discutere del rapporto appunto tra il cristianesimo e il potere che è ancora vivissimo ecco però il distanziamento da una tradizione che per il cristianesimo sia orientale che occidentale è stato fortemente innervato dal rapporto con il potere e che la riforma in qualche modo nel Cinquecento non ha non ha rotto l'ha semplicemente rimodulato diciamo così in un'altra chiave si pensa alla chiesa anglicana e al rapporto strettissimo però la riforma come dire ha introdotto una rottura ha introdotto rispetto perlomeno a certe forme di potere che erano consolidate non c'è dubbio non c'è dubbio cioè il rapporto la cancellazione di un clero come corporazione distinta dal mondo dei laici è uno dei grandi risultati nel mondo luterano e anche nel mondo anglicano il mondo calvinista è più complicato ovviamente per non parlare delle denominazioni diciamo così più radicali o minori certamente questo rapporto è stato comunque forte insomma dobbiamo immaginare che lo scritto di Lutero che si rivolge all'autorità secolare come meccanismo di tutela di una chiesa da riformare insomma certamente non è un appello che rompe con il potere politico neppure quello no non rompe con il potere politico però allarga allarga al mondo laico per il tempo era quello che si poteva fare diciamo e la distinzione tra e la fina della distinzione e l'appello alla libertà del cristiano che ovviamente apre un processo che nel mondo cattolico ha un'altra storia ha un'altra storia e forse non ci sia ancora arrivati in un certo senso perché c'è sempre questa incombente figura papale della curia curiale cioè c'è ancora come dire anche se qua e là ci sono fermenti molto vivi però non è in primo piano la libertà no? che posso dire ma stiamo parlando adesso proprio del mondo contemporaneo e della sì forse però qui in questo caso è la nostra ottica italiana che sovraespone questo ce lo dobbiamo sempre ricordare e da questo punto di vista io ritengo che il riposizionamento di Bergoglio sia un elemento significativo rispetto a una e forse altre cose le dobbiamo ancora vedere forse chissà ecco però c'è una in Italia noi tendiamo devo dire anche i mezzi di comunicazione tendono a identificare cristia tuttora cristianesimo e istituzione pontificia e curiale questo è un grosso difetto istituzione pontificia e curiale e dottrina anche perché per esempio noi riceviamo alcune lettere di ascoltatori adesso mi dispiace qui non le ho sotto mano che rivendicano rispetto nelle nostre parole abbastanza libere diciamo che rivendicano un'ortodossia della quale non c'è traccia né nei testi cristiani né forse nel mondo cristiano e anche cattolico contemporaneo dove le espressioni poi sono tante ma questo purtroppo è un altro dei difetti della cattolicità italiana dove non c'è una cinghia di trasmissione fra il dibattito teologico che è molto vivo anche nel cattolicismo e come dire il popolo cristiano fra virgolette se esiste un popolo cristiano e anche lo studio della scrittura come fatto liberamente e soprattutto con il metodo storico critico anche a volte anche nell'università pontifice è sempre il popolo ma non pensate che questo sia anche dovuto al fatto che comunque nonostante Bergoglio nonostante tante cose rimane inalterata la liturgia la lettura della storia i primi abbiamo ripetuto anche recentemente ma insomma ne abbiamo parlato da poco i primi concili eccetera eccetera è appunto un conto lei dice lo studio teologico ma queste cose rimangono ferme allora chi non ha la mediazione culturale o il tempo anche semplicemente per riflettere su questo rimane come un po' spiazzato e ci sono molti credenti di oggi che rimangono stretti fra un'esigenza che sentono che avvertono nel senso in cui diceva anche prima la venia e anche una libertà e però questi vincoli che comunque ci sono ma mi pare che ci sia intanto una richiesta dal basso di ordine davanti al disordine postmoderno e questo è una delle radici della fondamentalizzazione di gran parte dei credi non credo che riguardi soltanto né il fenomeno cattolico né quello cristiano basta che vediamo anche l'islam esattamente ma anche l'ebraismo per certi aspetti e l'induismo anche che è quasi un'invenzione occidentale e che anche quello si è radicalizzato nel mondo indiano creando addirittura un partito politico che sta tentando di fondamentalizzare uno dei luoghi più plurali se uno pensa semplicemente che l'impero Mughal in età moderna era un impero islamico sunnita cioè ci si ricorda che cosa è stato il subcontinente indiano e quanto oggi in qualche modo le pressioni verso una forma di fondamentalizzazione dei culti una ortodossia dei culti una fondamentalizzazione dei credi non riguardi solo la vicenda cristiana ed è una forma di reazione probabilmente alla come dire alla vertigine confusionaria del postmoderno e di un'epoca in cui è difficile come dire avere qualcosa di solido c'è poi nel mondo cattolico ovviamente il richiamo fortissimo alla tradizione ovviamente non solo al testo ecco ma anche la tradizione forse andrebbe certamente e appunto in questo senso la complessità che offrono questi volumi aiuta a vedere una ricchezza della tradizione e quindi non una univocità della tradizione e allora riprendendo un po' il nostro filo cronologico che abbiamo abbandonato per passione teologica c'è questo secondo volume dedicato all'età medievale curato da Marina Benedetti con molti altri contributi che insegna storia cristianese per l'università di Milano ecco che parla che tratta il periodo dai secoli dopo il settimo dall'ottavo secolo all'età moderna quindi al quindicesimo secolo ecco le cose che sono questo forse il volume è anche più più vario sì io lo trovo un volume estremamente innovativo sono molto contenta del lavoro fatto da Marina Benedetti nel coordinare questa echippe veramente molto numerosa è un volume che inserisce una parte molto significativa della sulla innervazione del cristianesimo come parola evangelica ancora trasmessa e come figura di Cristo utilizzata l'innervazione del cristianesimo non solo nella società ma anche in tutti i fenomeni della cultura credo che sia raro trovare in analoghe opere una parte quarta così sviluppata come qui in cui si dà parola appunto al cristianesimo nella parola nel suono nelle immagini dove si parla di un'estetica cristiana dell'arte appunto la matrice religiosa e cristiana di tutta l'arte medievale la musica e la liturgia il teatro ecco già questo costituisce ma questo comunque c'è anche abbondantemente nel volume curato dall'avenia dove poi appunto anche perché in età moderna lì c'è un'esplosione c'è un'esplosione addirittura e poi per esempio già solo la trattazione sul diritto ecco cristianesimo medievale e diritto dove l'autore di questo di questo capitolo Giovanni Chiodi mostra benissimo appunto come il diritto sia innervato dai testi sacri dove addirittura il testo sacro serva per stabilire un procedimento giudiziario per esempio la domanda di Dio ad Adamo dopo il peccato Adamo dove sei indica precisamente l'obbligo di portare a testimoniare il giudicano e dove si dà il diritto di difesa al giudicando infatti Adamo può bellamente accusare non solo Eva ma prima ancora Dio stesso la donna che tu mi hai dato ecco naturalmente tutte queste sono armi a doppio taglio nel senso che poi si istituzionalizza anche la prima storia dell'inquisizione che fu scritta nel 1598 da Luis de Paramo iniziava esattamente diceva che è l'inquisizio in materia di fede aveva origine esattamente in questo brano e che ce la dice lunga su come dire ecco ce la dice lunga ma quello che vorrei far insomma sottolineare è che ce la dice lunga tutto questo sulla nostra storia e quindi anche oggi dobbiamo stare molto attenti nel giudicare nel prendere una posizione può essere anche paralizzante per carità mentre abbiamo bisogno di scelte però come dire ecco la complessità non è una parola vuota è una parola angosciosa piuttosto e pesante e tra l'altro permettetemi di segnalare invece un altro libro che non fa parte di questi quattro volumi che è uscito adesso di Paul Cobb La conquista del paradiso uscito da Inaudi che è una storia islamica delle crociate e ecco e qui e qui c'è tutto un altro punto di vista c'è tutta un'altra storia e allora queste storie andrebbero lette incrociate incrociate nel senso di crociate il terzo volume che è quello curato da lei La Venia e appunto anche questo ha una grande ricchezza l'età moderna tra l'altro in copertina avete messo questo bellissimo Cristo di Menling siamo stati attirati dalla mostra e l'abbiamo usato anche noi nel nostro sito perché veramente ha questo sguardo sapiente malinconico da devozio moderna insomma c'è il mondo fiammingo attraverso questi occhi e un'idea precisa eh sì un'idea precisa pre-rasmiana del rapporto con Cristo del limitazio Cristo ecco lei che cosa ha imparato facendo questo volume oltre a tutto quello che sa già naturalmente ho imparato molte cose ho imparato molte cose soprattutto sul mondo delle chiese che si richiamano al patriarcato ecumenico cioè il mondo ortodosso detto infatti vedo che lì è particolarmente sviluppato apre apre a una storia che mi era meno nota rispetto alla storia del cattolicesimo del protestantesimo quindi stilare questo volume è stato per me anche un esercizio di come dire di 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 apprendimento di apprendimento a proposito di di storie intrecciate questo volume tiene molto a a guardare al rapporto tra cristianesimo e mondo nella storiografia attuale questo è un nodo centrale si parla di connect di storie ma anche di storie intrecciate per esempio sono due dei termini che oggi la storiografia usa più più correntemente soprattutto sull'età moderna ma guardare i primi contatti con il mondo indiano cinese significa ricordarci fino a che punto il cristianesimo è stato capace di muoversi dalla sua radice diciamo così romano giudaico-cristiana occidentale e mediterranea e quanto questi esperimenti fallirono quanto furono legati al mondo coloniale ma anche quanti esperimenti a quanti esperimenti di Ederovita esperimenti che nel mondo cattolico furono condannati ma tardivamente ma che all'inizio del seicento si pensi solo alla figura di Matteo Ricci di Ederovita davvero una riflessione che è una riflessione che aprì alla nozione stessa di religione di comparazione tutto questo fu accompagnato da una violenza di cui questo volume non tace ma anche ovviamente come dire abbiamo tentato di vedere il rapporto con l'ebraismo intanto che in età moderna proprio perché il brodo di cultura di un anti-giudaismo che flette verso fenomeni anche perché da subito il cristianesimo da molto presto prende invece la via della filosofia greca e romana e quindi ci si dimentica dove è nato e che parole usa per l'età moderna questo significa guardare anche i primi fenomeni tipo la limpieza del sangue nella penisola iberica che hanno o su cui oggi gli storici si interrogano per stabilire se è lecito distinguere un anti-giudaismo cristiano da un antisemitismo a sfondo razziale quando inizia questa vicenda per esempio ma c'è anche un capitolo dedicato all'islam dell'amico e collega Alessandro Ranoli poi ci sono anche i contributi di Piero Stefani più che contributi insomma saggi Adriano Prosperi Ottavia Niccoli certamente c'è il rapporto con la scienza che è un altro nodo su cui questo volume getta luce il rapporto con la letteratura e con il testo quando Giglio Lafragnito anni fa scrisse la Bibbia a rogo ricordandoci qual è il rapporto tra il volgare e l'accesso alla Bibbia come si distingue dopo la frattura luterana dopo la rottura dell'unità della chiesa latina beh questo è un nodo che riguarda anche la stesura dei testi alterari e il rapporto con le immagini che cambia anche quello moltissimo che cambia profondamente anche qui permettetemi di citare velocemente un libro un altro libro Carocci Novecento scritturale la letteratura italiana e la Bibbia anche qui ci sono tante cose che non si conoscono rapidamente il quarto volume curato da Giovanni Vian che non è il direttore dell'osservatore romano che comunque è un altro storico del cristianesimo ovviamente questo invece insegna a Venezia all'università H. Foscari ecco anche questo è un volume in parte più concentrato diciamo forse che ha meno ha un profilo più cronologico rispetto agli altri quattro e ha una cosa che va sottolineata in Italia anche il contributo di persone molto giovani alla stesura di questo volume in un paese che da questo punto di vista ha un'università un po' invecchiata per ricordarci anche che si continua a studiare e lo si fa tra generazioni che sarebbe bene conservare questo rapporto questo volume ragiona moltissimo del nesso soprattutto a partire dalla fine dell'ottocento e dall'inizio del novecento è molto centrale in queste pagine come dire lo studio filologico della Bibbia quello che la Chiesa Cattolica bollò come modernismo insomma che cosa ha significato porsi davanti al rapporto con come dire con gli strumenti nuovi della ecco questo in parte l'abbiamo detto anche prima diciamo perché fare una storia del cristianesimo oggi che significato può avere e purtroppo sentiamo la nostra sigla mi dispiace truncare questa bellissima conversazione ma comunque diamo la linea a file urbani grazie a Emanuela Prinzivali e grazie a Lavenia e ricordo che il programma è condotto il sabato da Brunetto Salvarani la cura di Paola Tagliolini regia benedetta Caldaruro tecnico del suono di oggi stato Simone D'Arrigo e io vi ringrazio vi ricordo di scaricare le nostre puntate sul sito uominiprofeti.rai.it grazie a Gabriella Caramore alla settimana prossima sabato e domenica su Radio 3 Grazie a tutti